Appuntamento importante di carattere culturale oggi al liceo scientifico Antonio Guaraci di Soverato, siamo con il vicepreside, il professor Tuccio. Allora, la sua scuola ha aderito a questo progetto dell'articolo 9 della Costituzione, un progetto che si pone come obiettivo lo sviluppo culturale, scientifico e tecnico, quindi sicuramente un articolo dove si devono porre le basi anche per la nuova società. Certo, questo è un progetto che è stato inserito nel nostro piano dell'offerta formativa, la scuola tiene molto a questo progetto, come lei anticipava il progetto parte dall'articolo 9 della Costituzione, nel quale ovviamente si riporta, come diceva lei, e quello che la nostra Repubblica si propone di fare soprattutto per quanto riguarda la tutela, la promozione della ricerca sia scientifica che è la tutela del patrimonio culturale storico. Questo progetto che è attivato con la collaborazione del Museo Archeologico di Monasterace, oggi vede la partecipazione di una grande personalità nel mondo del restauro, c'è il dottore Mantella, che presenterebbe anche delle pubblicazioni recentissime, una addirittura di questi giorni, e che riguarda ovviamente uno dei grandi personaggi, dei protagonisti del patrimonio culturale e artistico calabrese, e chi non ha visto un quadro di Cavaliere Calabrese. E quindi noi teniamo molto, c'è una buona partecipazione, i ragazzi oggi parteciperanno a quei quattro classi, hanno mostrato un gran interesse e quindi credo che l'iniziativa di oggi contribuirà anche sul piano della formazione, sul piano della ricaduta di quella che è la didattica ordinaria, diciamo, curricolare. Primo appuntamento del progetto sull'articolo 9 della Costituzione qui al Liceo Scientifico di Soverato e il protagonista di questa giornata è Giuseppe Mantello, ovvero uno dei maggiori esperti nazionali di restauro che oggi documenterà anche, diciamo così, i suoi studi su un artista che a noi calabresi ci riguarda in maniera particolare, ovvero Mattia Preti. Sì, Mattia Preti, proprio perché dal 24 febbraio del 2013 inizieranno i festeggiamenti per i 400 anni della nascita del grande cavaliere calabrese, perché così veniva chiamato già nel 700. Sì, Mattia Preti, io ho avuto il piacere e l'onore di incontrarla nella mia vita attraverso l'esperienza che sto facendo a Malta da tantissimi anni restaurando la chiesa conventuale dei Cavalieri Gerasolimitani, dove lui si trasferisce dal 1659 fino alla sua morte realizzando quasi 450 opere in tutta l'isola. Il percorso che stiamo facendo noi è quello di conoscere l'artista, essendo io un restauratore, attraverso la materia, quindi attraverso quello che lui produce su questa straordinaria isola e attraverso lo studio dei documenti, quindi spessissimo andiamo in biblioteca dove si trovano conservati migliaia di documenti e autografi che i Cavalieri portano nel 1530 a Malta quando fuggono da Rodi. E quindi è possibile seguire la vita di Mattia Preti attraverso questi documenti e successivamente attraverso le opere che lui ha realizzato. Quindi un lavoro di sinergia tra storici dell'arte e restauratori i quali insieme finalmente riescano a mettere un punto fermo sull'opera dell'artista. Tutto questo l'abbiamo raccolto in un volume che è uscito proprio in questi giorni dove raccontiamo Mattia Preti, pittore e architetto a Malta. Ecco, lei i suoi studi e le sue ricerche, diciamo così, oggi le diffonde ai ragazzi. Ovvero coloro che dovranno coltivare la cultura negli anni a venire. Quindi sicuramente un messaggio positivo che vuole diffondere, che ha come obiettivo questo progetto perché inculcare nei ragazzi questa passione, questa attività, questa ricerca è sicuramente un buon viatico per un futuro, diciamo così, migliore. Sì, quello che vorrei riuscire a trasmettere questa mattina è proprio questo e grazie all'impegno che già ci deve essere nelle scuole superiori, nelle scuole medie attraverso lo studio già del latino perché quando per esempio noi andiamo in biblioteca a ricercare documenti troviamo sempre documenti in latino e quindi è necessario conoscerli. Quindi il liceo è il momento fondamentale proprio per avere poi un approccio scientifico a tutto quello che si farà nella propria vita. Sì, quello che vorrei riuscire a trasmettere è proprio questo, fare in modo che attraverso lo studio e la tenacia si possa studiare, uscire dalla Calabria, specializzarsi il più possibile ma tornare, tornare qui da noi perché ne abbiamo veramente bisogno. Vi faccio un esempio. Io sono un restauratore che gira tantissimo per il mondo e ho deciso di tornare qui in Calabria ed è primo laboratorio ma ho la grandissima difficoltà di avere dei ragazzi delle nostre parti che fanno questo lavoro e quindi io devo rivolgermi a Roma, a Milano, a Torino, in qualsiasi altra parte dell'Italia per avere dei collaboratori e realizzare dei lavori qui in Calabria. Quindi attraverso questa operazione mi piacerebbe moltissimo che qualcuno di loro un domani possa diventare uno storico dell'arte e un restauratore. Faccio un appello soprattutto alla Regione Calabria e al 2013 per i festeggiamenti. È necessario che ci siano nel programma di festeggiamenti non soltanto delle mostre dove si racconta Mattia Breti come artista ma dobbiamo fare un programma didattico per far conoscerlo ai nostri studenti affinché possa diventare un mezzo, un viatico per formarli e riuscire a trasmettere loro che cosa significa studiare, approfondire e diventare domani un qualcuno.